Il micro-motto terzi non viene mai consigliato a fare le alternative possibili per fare foto d'architettura. Vuoi perché forse spesso è bistrattato, vuoi perché non esistono ottiche decentrabili per il sistema, ma io l'ho usato spesso e non sono affatto d'accordo. È infatti un ottimo sistema per fare foto d'architettura di livello professionale, con alcune accortezze che qui vi racconto. L'argomento è interessante perché spesso, volendo viaggiare leggero, preferisco portarmi dietro il corredo micro-motto terzi piuttosto che tutto l'armamentario full frame. Ma riesco comunque a tornare a casa con immagini di architettura di livello professionale. E devo ringraziare Francesco Verolino, un street photographer eccezionale, che con una recente telefonata mi ha fatto rendere conto che non ho mai parlato di fotografia d'architettura. Eppure faccio l'architetto e faccio foto d'architettura. Francesco fa foto strepitose della sua Napoli e delle persone che la vivono e sul suo canale YouTube fa dei tutorial favolosi spiegando come farle. Consiglio a tutti di andarlo a vedere, lascio il link in descrizione. I temi fondamentali di cui parlerò qui sono tre. Il primo è quello principale, sono le linee verticali. Il secondo del colore è il terzo, nitidezza e profondità di campo. Partiamo dal primo che è quello principale e alla base di tutta la foto d'architettura. Le linee verticali. Perché prima ho accennato alle ottiche decentrabili? Perché la foto d'architettura ha una convenzione principale. Le linee verticali nella realtà, nella foto ripresa, devono essere verticali. E questo impone che il piano del sensore sia parallelo alla facciata del fabbricato. E quindi in un caso come questo, dove magari vogliamo riprendere, fotografare quell'edificio lì, che è alto, e non possiamo spostarci più indietro di tanto perché la strada ha una larghezza adatta, l'unica alternativa che abbiamo è angolare la macchina verso l'alto, inclinarla verso l'alto. Ma in questo modo perdiamo il parallelismo del sensore rispetto al piano della facciata e quindi avremo le linee convergenti verso l'alto. E questo è peccato. Per questo esistono gli obiettivi decentrabili, come ad esempio questo, che ci permettono di mantenere il piano della pellicola o del sensore parallelo al piano della facciata, ma ci permettono di guardare verso l'alto, far guardare verso l'alto la macchina, decentrando la parte frontale dell'ottica. In questo modo, questo è un controllo che permette di decentrare l'asse dell'ottica rispetto alla normale, diciamo, del sensore. Questo è uno Schneider decentrabile montato su una full frame Nikon, ma per micro 8 terzi non esiste nulla di simile. E quindi l'alternativa ideale con il micro 8 terzi è avere un'ottica molto corta, con una focale molto corta, un grandangolo, ad esempio, come questo 8 che ha una focale equivalente di 16 e angolare la macchina, come dicevo, con il piano del sensore assolutamente parallelo alla facciata e piazzare il soggetto nella parte superiore del fotogramma. Verrebbe spontaneo angolare la macchina in diagonale, invece bisogna portarla perfettamente orizzontale, così, la fissiamo, mettiamo a posto le altre linee. Evidentemente nell'inquadratura ci sarà molta strada e poco cielo, però ecco, la strada in post la taglieremo. Il cielo, eventualmente, lo potremmo sovrapporre con il cielo che potremmo ricavare da un'altra foto fatta con la macchina angolata, raddrizzata in post e sorrapposta. È più facile correggere un cielo che non ha nulla di nitido rispetto a un edificio che ha tanti dettagli. La terza alternativa, in mancanza di obiettivo decentrabile o di una focale abbastanza corta, è la correzione in post integrale, ma me la lascio proprio come ultima spiaggia. Ho ripreso questo edificio che non ha nessuna rilevanza architettonica, ma per chiarire bene il concetto. Pro e contro della correzione in post. Pro e contro della correzione in post. Il pro principale è che avremo più cielo della ripresa con l'ottica ampia, però abbiamo una serie di contro. Il principale è che le proporzioni dei lati orizzontali e verticali del soggetto saranno distorte. Normalmente quello che risulta dalla post produzione è un obiettivo più tozzo, quindi più largo e basso della realtà. Quindi a occhio dovremmo poi stirarlo in verticale per correggiare questo tipo di errore. Il secondo contro è che avremo una perdita molto forte di risoluzione. Questo perché raddrizzandola verranno stirati i pixel nella parte superiore del fotogramma e compressi quelli sotto. Una foto da 20 megapixel potrebbe arrivare a 12 megapixel o a 10 megapixel. Nella realtà questo non è un enorme problema sui megapixel, ma si perde nitidezza perché appunto i pixel vengono stirati. Non ho ancora parlato degli obiettivi che consiglio per fare foto d'architettura romico 4 terzi perché devo introdurre il secondo tema, quello dei colori. Infatti la foto d'architettura per sua natura è estremamente ricca di colori. Contrasto e saturazione sono estremamente importanti e come al solito è molto meglio arrivarci in fase di ripresa piuttosto che fare tutta la correzione in post-produzione. Io normalmente preferisco avere la foto in fase di ripresa migliore possibile e delegare alla post-produzione i ritocchi dei dettagli. E quindi è necessario montare un filtro polarizzatore ad esempio come questo sulla lente frontale della nostra ottica. Questo perché permette di saturare il blu del cielo e togliere quel velo biancastro che dà la foschia quando è in sospensione nell'aria e quindi permette di riprendere i colori senza velature. E inoltre ci aiuta a controllare i riflessi sui vetri, sulle superfici riflettenti, anche sull'acqua. Ecco quindi che per poter montare un filtro AVT già si escludono tutti quegli obiettivi che hanno la lente semisferica frontale, come ad esempio gli ottimi 714 di cui tanto ricco il sistema microguota terzi. C'è il Panasonic F4, l'Olympus F4 e il favoloso Olympus F2.8 fisso. Ecco tutti hanno la lente frontale che si protende verso il davanti e quindi ci impedisce di montare un filtro AVT. Restano quelli evidentemente con la lente piano quasi, come questo favoloso 818 Leica F2.8.4, l'825 che è uscito da pochissimo Olympus F4 e il 1025 Leica F1.7. Quest'ultimo non è così ampio come questi, perché partendo da 8 hanno una focale equivalente di 16, il 10 ha una focale equivalente di 20, ma ha dalla sua la grandissima luminosità, perché questo parte da 2.8, l'825 parte da F4, quell'altro parte, il 1025 parte da F1.7. Ecco queste sono le tre ottiche professionali che mi sento di consigliare per il microguota terzi, proprio perché uniscono alla grande qualità ottica la possibilità di montare il filtro polarizzatore frontale e hanno l'ampiezza, hanno una grande ampiezza di angolo di ripresa. E infine il terzo tema di cui volevo parlare, nitidezza e profondità di campo. E qui è tutto facile per il microguota terzi, perché rispetto al full frame restituisce immagini con la profondità di campo doppia a parità di apertura di framma. È importante perché nella foto d'architettura non piace lo sfocato, né in primissimo piano né sullo sfondo, piace il tutto nitido. La foto d'architettura normalmente è tutta nitida. E appunto il microguota terzi è l'ideale per questo ed è anche l'ideale perché le sue ottiche sono estremamente risolventi, hanno un potere risolvente elevatissimo. E poi il sistema ha questa caratteristica della correzione elettronica in body e quindi le distorsioni geometriche vengono corrette direttamente dalla macchina. Questo è un vantaggio perché ti evita tutta quella fase di post-produzione per la correzione delle aberrazioni ottiche degli obiettivi, che in effetti nei programmi avviene anche automaticamente, ma è un passaggio in meno che dobbiamo fare. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui su un tema mai affrontato prima, forse perché il binomio foto d'architettura e microguota terzi si è sempre escluso a priori, ma che secondo me è assolutamente sostenibile con le dovute accortezze. Se vi è piaciuto questo video e volete che approfondisca ulteriormente il tema della foto d'architettura, mettete un like e selezionate la campanella per essere avvisati sui prossimi video che pubblicherò. Ciao ciao!